Sia lodato Gesù Cristo Permettetemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento agli organizzatori della Cattolica Identity Conference e a tutti coloro che vi prendono parte. In un momento di grande confusione è importante fare chiarezza su quanto accade anche confrontandosi su posizioni differenti. Ecco perché sono grato all'amico Michael Mudd per avermi dato l'opportunità di condividere con voi alcune considerazioni. In questo mio intervento ricorrendo alle categorie di giudizio e di azione ordinarie. Il moltiplicarsi di dichiarazioni e comportamenti del tutto estranei a ciò che ci si aspetta da un Papa ed anzi in contrasto con la fede e la morale di cui il Papato è custode ha portato molti fedeli e un numero sempre più cospicuo di vescovi a prendere atto di qualcosa che fino a qualche tempo fa appariva inaudito. Il sogno di Pietro è occupato da un personaggio che abusa del proprio potere per lo scopo opposto a quello per cui il nostro Signore lo ha istituito. Alcuni ritengono Jorge e Mario Bergoglio palesemente eretico nelle questioni dottrinali altri tirannico nelle questioni di governo altri ancora considerano la sua elezione invalida a causa delle molteplici anomalie della rinunzia di Benedetto XVI e delle elezioni di chi ha preso il suo posto. Queste opinioni più o meno suffragate da prove o frutto di speculazioni non sempre condivisibili confermano tuttavia una realtà ormai incontestabile. Ed è questa realtà, a mio parere, che costituisce un punto di partenza comune nel cercare di porre rimedio alla sconcertante, scandalosa presenza di un Papa che si pone con ostentata arroganza come inimicus ecclesie e che come tale agisce e parla. Un nemico che proprio perché occupa il sogno di Pietro e abusa dell'autorità papale è in grado di infliggere un colpo terribile e disastroso quale nessun nemico esterno in tutta la storia della Chiesa ha mai potuto arrecare. I peggiori persecutori dei cristiani i più feroci addetti delle logge massoniche i più scatenati eresiarchi non erano riusciti in così poco tempo e con tale efficacia a devastare la vigna del Signore scandalizzarne i fedeli disgustarne i ministri screditarne dinanzi al mondo l'autorità e l'autorevolezza demolirne il Magistero la fede la morale la liturgia e la disciplina inimicus ecclesie non solo rispetto alle membra del corpo mistico che gli disprezza ridicolizza contro cui non cessa di lanciare venenosi epiteti perseguita e colpisce ma anche rispetto al capo del corpo mistico Gesù Cristo l'autorità del quale è da vergoglio esercitata non più in funzione vicaria e quindi in necessaria e doverosa coerenza con il depositum fidei ma in modo autoreferenziale e quindi tirannico l'autorità del Romano Pontifice è infatti derivata dalla suprema autorità di Cristo alla quale essa partecipa entro i confini e nell'ambito delle finalità che il divino fondatore ha stabilito una volta per tutte e che nessun potere umano può modificare l'evidenza dell'alienità di vergoglio all'ufficio che ricopre è un fatto certamente doloroso e gravissimo ma il prendere coscienza di questa realtà è la premessa indispensabile per porre un rimedio ad una situazione insostenibile e disastrosa in questi dieci anni di pontificato abbiamo visto vergoglio fare tutto quello che non ci si sarebbe mai aspettati da un papa e viceversa tutto quello che farebbe un'eresiarca o un'apostata ci sono state occasioni in cui queste azioni sono apparse palesemente provocatorie come se con le sue esternazioni o con certi atti di governo egli volesse deliberatamente suscitare lo sdegno del corpo ecclesiale e spingere sacerdoti e fedeli a reagire dandogli il pretesto per dichiararli scismatici ma questa strategia tipica del peggior gesuitismo è ormai scoperta perché l'intera operazione è stata condotta con troppa arroganza e in ambiti su cui nemmeno i cattolici moderati sono disposti a transigere gli scandali sessuali del clero in particolare la risposta della Santa Sede alla piaga della corruzione morale di cardinali e vescovi hanno mostrato una vergognosa disparità di trattamento tra coloro che appartengono al cosiddetto cerchio magico di Bergoglio e quanti invece gli considera avversari il recente caso Rupnik è la prova di una gestione del potere simile a quella di un despota legibus solutus e che si considera libero di agire senza dover rendere conto ad alcuno delle sue azioni spesso accade che le conseguenze delle decisioni assunte personalmente dall'argentino vengano poi fatte ricadere sui subalterni che si trovano accusati e screditati per scelte non loro penso al caso dell'immobile londinese in cui sono stati coinvolti ufficiali della segretaria di stato mentre il contratto di comprevendita reca l'augusto chirografo penso alla vergognosa gestione del caso Rupnik che oltre ad aver riabilitato un criminale responsabile di orrendi delitti in spregio alle numerose vittime ha gettato discredito anche sull'ex prefetto della congregazione per la dottrina della fede il cardinal Ladaria penso al caso McCaric che con la farsa di una procedura amministrativa segreta è stato frettolosamente liquidato senza alcun risarcimento alle vittime e dichiarato resti iudicata inappellabile e la lista potrebbe continuare all'infinito rimane evidente che gli sventurati che prestano volenti o nolenti la propria collaborazione a Bergoglio si trovano gettati a mare non appena la stampa scopre gli scandali vaticani di questo cinico comportamento utilitaristico si stanno accorgendo in molti che infatti giungono a declinare nomine e promozioni proprio per non trovarsi negli scomodi panni di capro spiatorio il silenzio dell'episcopato dinanzi all'enormità bergogliane conferma che l'autoritarismo autoreferenziale del gesuita Bergoglio ha trovato servile obbedienza nella quasi totalità dei vescovi terrorizzati dall'idea di essere fatti oggetto delle ritorsioni del vendicativo e dispotico satrapo di Santa Marta alcuni vescovi diocesani iniziano a non sopportare più la sua azione devastatrice che mina l'autorità e l'autorevolezza della Chiesa intera il vescovo Joseph Strittland ad esempio ha lodevolmente ribadito verità dottrinali immutabili che il sinodo sulla sinodalità dei prossimi mesi si appresta a demolire il cardinal Gerhard Ludwig Müller ha giustamente ricordato che il Signore non ha conferito potere al Papa di bullizzare i buoni vescovi qualcosa quindi inizia a cambiare gli schieramenti vanno delineandosi e vediamo da una parte la Chiesa Sinodale di Bergoglio che chiama emblematicamente nostra e dall'altra quel che resta della Chiesa Cattolica verso la quale egli non manca di ribadire la propria assoluta estraneità Monsignor Atanasio Snyder sostiene che le eventuali irregolarità verificateci nel conclave del 2013 sarebbero comunque sanate in radice dal fatto che l'eletto Jorge Mario Bergoglio è stato riconosciuto come Papa dai cardinali elettori dell'Episcopato e dalla maggioranza dei fedeli in pratica a prescindere dalle vicende che possono aver portato all'elezione di un Papa con o senza interventi esterni la Chiesa si dà un lasso di tempo oltre il quale non sarebbe possibile impugnare un'elezione se il nome dell'eletto è accettato dal popolo cristiano ma questa tesi è messa in discussione da un precedente storico all'epoca di Urbano VI siamo nel 1378 la maggioranza dei cardinali dei prelati dei sovrani cattolici e del popolo riconobbe come Papa Clemente VII in realtà antipapa 13 cardinali su un totale di 16 mise in discussione la validità delle elezioni di Papa Urbano in ragione della minaccia di violenze del popolo romano al Sacro Collegio e anche i pochi sostenitori di Urbano ben presto si pentirono di averlo eletto convocando un conclave a fondi da cui uscì eletto l'antipapa Clemente VII anche San Vincenzo Ferrer era convinto che il vero Papa fosse Clemente mentre Santa Caterina da Siena era schierata con Urbano se il consenso universale fosse stato un argomento indefettibilmente valido si sarebbe dovuto considerare Papa Clemente e non Urbano come Papa l'antipapa Clemente sconfitto dall'esercito di Urbano VI della battaglia di Marino del 1379 trasferì la sede ad Avignone dando luogo allo scisma d'Occidente che durò 39 anni vediamo quindi che il consenso universale è un argomento che non regge alla prova della storia un signore Atanasio Snyder ci ricorda che la via Tuzio cioè la via più sicura consiste nel non obbedire a un Papa eretico senza doverlo necessariamente considerare decaduto ipso facto dal suo ufficio in quanto separato dalla Chiesa e quindi non più capace di esservi a capo come invece ritiene San Roberto Bellarmino ma anche questa soluzione che se non altro riconosce che Bergoglio è eretico non mi sembra risolutiva dal momento che l'obbedienza che i fedeli possono negargli è solo marginale rispetto a tutti gli atti di governo e di magistero che costrui a compiuto e continua a compiere senza che i suoi sudditi possono fare alcunché certo ci si può organizzare per la celebrazione clandestina della messa cattolica ma cosa possono fare un sacerdote o un laico quando una cupola eversiva di vescovi manovrati da Bergoglio si appresta a introdurre con il sinodo sulla sinodalità cambiamenti dottrinali inaccettabili e cosa potranno fare quando nelle loro parrocchie una diaconessa ve ne dirà le nozze di due sodomiti certamente la disobbedienza a ordini illegittimi di un superiore eretico o apostata è doverosa sul gravi poiché l'obbedienza a Dio viene prima dell'obbedienza agli uomini e perché la virtù dell'obbedienza è gerarchicamente subordinata alla virtù teologale della fede ma il danno che ne deriva per il corpo ecclesiale non è impedito con un'azione di semplice resistenza occorre risolvere la questione alla radice preso dunque atto che Bergoglio è eretico che basterebbe a Moris Letizia o la dichiarazione dell'immoralità intrinseca della pena di morte per averne la prova dobbiamo chiederci se l'elezione del 2013 sia stata in qualche modo inficiata da un vizio di consenso se cioè l'eletto abbia voluto diventare Papa della Chiesa Cattolica o piuttosto capo di quella che richiama la nostra Chiesa Sinodale che nulla ha a che vedere con la Chiesa di Cristo proprio perché si pone come altra rispetto ad essa questo vizio di consenso si rileva a mio parere anche dal comportamento di Bergoglio ostentatamente anticattolico e eterogeneo rispetto all'essenza stessa del Papato non vi è azione di costui che non suoni palesemente di rottura rispetto alla Prassi e al Magistero della Chiesa e a ciò si aggiungono le prese di posizione tutt'altro che inclusive verso i fedeli che non intendono accettare arbitrarie innovazioni o peggio eresie conclamate la questione fondamentale verte sulla comprensione del piano eversivo della Deep Church che con i metodi denunciati a suo tempo da San Pio X nei riguardi dei modernisti si è organizzata per compiere un colpo di stato in seno alla Chiesa e portare al soglio di Pietro un profeta dell'Anticristo la mensa rea nell'infiltrarsi nella gerarchia e a scender di gradi è evidente così come è evidente che i piani della fazione ultra progressista non potevano arrestarsi dinanzi a Benedetto XVI da essi considerato troppo conservatore e soprattutto odiatissimo per aver osato promulgare in modo proprio su morum pontifico e così ecco spinto Benedetto XVI a dimettersi è subito pronto quello sconosciuto arcivesco di Buenos Aires che l'11 ottobre 2013 in una conferenza alla Villanova University negli Stati Uniti l'allora Cardinal McCarrick suo amico di lunga data rivelò essere stato fortemente voluto da un very influential Italian gentleman emissario del Deep State presso la Deep Church chi lavora nella curia romana sa bene chi è chiamato il gentiluomo per antonomasia e quali siano i suoi legami con il potere di qua e di là del Tevere e ne conosce pure gli imbarazzanti pancian che rispiegano la contiguità con la lobby omosessuale vaticana è altresì significativo che McCarrick si dica convinto in quella conferenza che Bergoglio cito cambierà il papato nell'arco di quattro anni confermando l'intenzione dolosa di manomettere l'istituzione divina e irreformabile della Chiesa vedere Bergoglio partecipare a un evento della Clinton Foundation dopo altri non meno scandalosi endorsement dell'edit globalista conferma il suo ruolo di liquidatore fallimentare della Chiesa in vista della Costituzione di quella religione dell'umanità che dovrà servire da ancella della sinarchia del nuovo ordine mondiale ecumenismo ecologismo immigrazionismo ideologia LGBTQ gender e altre istanze della religione globalista sono fatti propri da Bergoglio non solo tramite un'azione di ostentato e orgoglioso sostegno ai fautori dell'agenda 2030 ma anche con un'opera sistematica di demolizione di tutto ciò che nel Magistero vi si oppone e di spietata persecuzione di chi esprime anche prudenti perplessità quindi Bergoglio eretico e palesamente ostile alla Chiesa di Cristo per svolgere il compito assegnato dalla Deep Church ha dissimulato le proprie posizioni più estreme in modo da trovare un numero sufficiente di voti al conclave per garantirsi obbedienza totale chi ha udito il piano si è assicurato che fosse ampiamente ricattabile come sempre avviene e una volta eletto Bergoglio ha potuto mostrarsi per quello che è e dare inizio alla demolizione della Chiesa e del Papato ma può un Papa distruggere il Papato che egli incarna e rappresenza può un Papa devastare la Chiesa che il Signore gli ha affidato per difenderla e ancora se la partecipazione al conclave di un cardinale ha come scopo un'azione dolosa un atto eversivo ai danni della Chiesa se lo scopo è compiere un crimine anche se si rispettano apparentemente le procedure e le norme dell'elezione vi è incontestabilmente una mens rea e questa intenzione criminale emerge dall'astuzia con cui è stato consumato un inganno degli elettori in buona fede con la collaborazione di quelli complici mi chiedo allora non siamo in presenza di un vizio di consenso che inficia la validità dell'elezione senza dire che la stessa compresenza di un papa rinunciatario e di un papa regnante è già di per sé un elemento che induce a credere che costoro avessero un falso concetto dell'essenza del papato considerato come un ruolo condivisibile con altri non dimentichiamo che la distinzione tra munus e ministerium è arbitraria e che non può esserci un papa che si dedica al ministero orante e uno che governa Cristo è uno una la chiesa uno solo successore di Pietro un corpo con due teste e un monstrum che ripugna la natura ancora prima che la costituzione divina della chiesa qualcuno potrà obiettare ma anche se Bergoglio ha agito con il dolo ha comunque accettato ciò che i cardinali gli offrivano l'elezione a Vescovo di Roma e quindi a Pontevice Romano quindi ha assunto l'ufficio e va considerato papa io credo invece che l'accettazione del papato sia viziata perché egli considera il papato altra cosa rispetto a ciò che è come il coniuge che si sposa in chiesa escludendo i fini specifici del matrimonio e rendendo quindi nullo il matrimonio per vizio del consenso appunto non solo quale congiurato che agisce dolosamente per ascendere una carica sarebbe così sproveduto da spiegare a chi deve eleggerlo di avere intenzione di diventare papa per dare esecuzione agli ordini dei nemici di Dio e della Chiesa buongiorno sono Jorge Mario Bergoglio ho intenzione di distruggere la Chiesa facendomi eleggere papa mi date il vostro voto la mensrea strapproprio nel ricorso all'inganno alla dissimulazione alla menzogna alla delegittimazione degli avversari fastidiosi e all'eliminazione di quelli pericolosi e che volesse compiere il piano criminale dell'elite globalista lo abbiamo sotto gli occhi tutti desiderata delle mail di John Podesta braccio destro di Hillary Clinton hanno trovato o stanno trovando esecuzione dall'adozione della parità di genere come premessa al sacerdozio femminile all'inclusione LGBTQ dall'accettazione della teoria gender alla partecipazione all'agenda 2030 in materia di cambiamento climatico dalla corporalizzazione del proselitismo all'esaltazione dell'immigrazionismo come metodo di sostituzione etnica e parallelamente vi è la rimozione e la condanna dell'altra Chiesa quella preconciliare fatta dei rigidi intolleranti a partire da nostro Signore come ha blasfemamente scritto Antonio Spadaro e con la cancel culture applicata a fede e morale anche l'eliminazione della Messa che a quella Chiesa appartiene intrinsecamente che Vergoglio considera in conflitto con la nuova ecclesiologia al punto da proibirla come incompatibile con la Chiesa sinodale Ecco dunque lanciato il sasso nello stagno Vorrei che prendessimo in seria serissima considerazione l'eventualità che Vergoglio abbia voluto ottenere l'elezione con il dono e che si prefiggesse di abusare dell'autorità di Romano Pontefice per fare l'esatto contrario di ciò che Gesù Cristo ha dato mandato a San Pietro e i suoi successori di fare cioè confermare i fedeli nella fede cattolica pascere e governare il grege del Signore predicare il Vangelo a tutte le genti tutta l'azione di governo e di magisterio di Bergoglio sin dalla sua prima apparizione alla loggia vaticana presentandosi con quell'inquietante buonasera si è dipanata in senso diametralmente opposto al mandato Petrino ha adulterato e continua ad adulterare il depositum fidei ha creato confusione e indotto in errori fedeli ha disperso il grege ha dichiarato di ritenere l'evangelizzazione dei popoli una solenne sciocchezza e abusa sistematicamente del potere delle sante chiavi per sciogliere quel che non può essere sciolto e legare ciò che non può essere legato questa situazione è umanamente insanabile perché le forze in gioco sono in mani e perché la corruzione dell'autorità non può essere sanata da chi ad essa è sottoposto dobbiamo prendere atto che la metastasi di questo pontificato origina dal cancro conciliare da quel Vaticano II che ha creato le basi ideologiche dottrinali e disciplinari che dovevano condurre inevitabilmente a questo punto ma quanti dei miei confratelli che pur riconoscono la gravità della crisi attuale hanno la capacità di riconoscere questo legame di causalità tra la rivoluzione conciliare e le sue estreme conseguenze con vergoglio se questa passio ecclesie prelude alla fine dei tempi è nostro doveroso è nostro dovere prepararci spiritualmente a momenti di grande tribolazione e di vera e propria persecuzione ma sarà proprio ricorrendo e ripercorrendo la via dolorosa della croce che il corpo ecclesiale potrà purificarsi dalle sozzure che lo deturpano e meritare di aiuti soprannaturali che la provvidenza riserva la Chiesa nei tempi della prova dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia permettetemi infine di ricordarvi che l'associazione exurge domine da me fondata ha come scopo dare un aiuto spirituale e materiale ai sacerdoti ai religiosi e alle religiose perseguitati dalla Chiesa vergogliana a causa della loro fedeltà alla tradizione se volete contribuire con una donazione alla realizzazione dei nostri progetti potete farlo dal sito dell'associazione sia lodato Gesù Cristo Gesù Cristo è dominio pari humanos et mi liberano Grazie a tutti.